Bentornati allo Stadio Olimpico, benvenuti a Lazio-Lecce, la diciannovesima giornata, l'ultima del girone d'andata. Bertolacci col sinistro, Muslera in calcio d'angolo. Spiomenta di Grossmüller e grande parata da parte di Muslera, il palo del Lecce, prima il colpo di testa di Munari con la grande risposta a Muslera. Vediamo se trova il tiro con il rientro, eccolo Sarate, la parata di Rosati, bravissima, non farsi sfuggire il pallone. Di nuovo la lanciata con il cross di Radu, Rosati che rinvia, poi Mauri, sul suono il tiro di Stefano Aurè. Tentativo di Berbacci e poi ancora un rinvio di Stendardo, pallone alla conclusione che prende il palo e vento, il palo su Muslera e palla in rete. Il palo di Zed, il palo sul palo e poi la schia di Muslera, palla in rete, il resto di Zed. Il palo di Ledesma, un rinpallo e la palla in rete, ha pareggiato Lazio, Mauri, Tegna Mauri, un rinco all'interno dell'area di Moret, il gol di Stefano Mauri. Perché qui, gol posto, rinpallo, come lo dice, palla, spalla, Muslera, che qui è rinpallo. Adesso la torre di Sarate, ancora Sarate, ancora un rinpallo di ritorno, Sarate ha salvato Rosati col piede. Qui c'è ancora Sarate, Rosati, un rinpallo, è finito a terra Sarate, l'intervento ancora di Rosati. Palla mela fuori, ancora Tomovic, prova a liberarsi Tomovic, diagonale, parata di Mera, tiro di Grossmuller. Lo spavente di Sarate, Rosati, palo, ha tirato direttamente in porta dalla barina d'angolo e stava per fare centro, Mauro Sarate. Scavalcato Rosati, palo, è la seconda occasione in cui va vicino al gol Mauro Sarate in suo secondo tempo. Sta attaccando e c'è adesso, Gross-Rives, palla dentro, Grossmuller, 2-1, il leve è Pasquo di nuovo, vantaggio di Grossmuller. Penso un attimo su, il servente guagliato, guarda qui il cross, sbaglia Orvia, colpirà palla di tu solo, Grossmuller e Muslera. Azione favorevolissima per il Lecce, Muslera, già, e ha salvato l'Edez, poi la palla sulla traversa, ancora scena e si gira, ancora Grossmuller. Ancora in salvaggio d'occhio, Rocambonesco, il Lecce è andato fino al 3-1.